Cristian Savani, stai guidando con molta umiltà questa Italia, che cosa stai trasmettendo a questi nuovi giovani, a questa nuova Italia? Stasera abbiamo imparato tutti l'analizio del Cime, non dobbiamo mollare mai. Stasera è stata una partita difficile, sofferenza, però siamo sempre rimasti attaccati alla partita. Anche non giocando bene siamo riusciti a vincerla e questo è importante. Senti, so che sei diventato il parrucchiere ufficiale di questa nazionale, volevo sapere trucco e parrucco in ritiro, quanto lo fai pagare? No niente, è un piacere che faccio l'esperimento, perché anche io non so se mi piacerà o no, però loro si fidano. Senti, ultima cosa, come vanno queste prime settimane da papà? Insomma, adesso ormai sono due mesi, però la vedo poco purtroppo, questo mi dispiace tanto, è uno dei tanti sacrifici che bisogna fare quando si viene in nazionale, però cerco di godermi per i pochi giorni che sono a casa.